Sono con Marco Vignozzi della Assi Media Assicurazione che si trova a Poggi Bonsi, in Viale Marconi di fronte allo stadio del 66B per la precisione. Di cosa vi occupate? La nostra è un'agenzia plurimandataria, quindi ci occupiamo un po' di tutto quello che è il comparto assicurativo, rappresentiamo più compagnie di assicurazione nella zona e quindi facciamo un po' tutti i settori assicurativi. Lei è uno degli sponsor principali della Info Spettacoli, cosa ne pensa di questa serata? Beh, di solito Info Spettacoli organizza sempre delle bellissime serate, quindi come al solito una bella serata con un gruppo importante e quindi speriamo che la serata vada per il meglio. Grazie. Prego, prego, buona serata.